Oh ascolta, faccio solo il video, non riesco a fare le foto Come si fa? Come ti chiami? Come ti chiami? Perché c'è gli occhiali da nerd? Perché non si vedono Ah, però che cazzo è? Degli occhiali speciali Canti, suoni? Suoni, suoni Cosa suoni? Però cazzo Ciao Basta, non sto vero